Il miglior amore è quello scomodo. Perché in amore, lo sappiamo, no? Vince la paura, è bellissima. Si chiamano pene d'amore. Anche lì l'italiano ci dà una mano. Pene, avete mai sentito il cacofonico? Non funziona. Funziona molto bene pene d'amore. Perché le abbiamo sentite, sappiamo. Perché quando sei molto innamorato hai paura che quell'amore finisca, no? O no? L'innamoramento non è un pret-à-porter. È un vestito di Valentino. È una cosa meravigliosa. È un amore unico, irripetibile. Non può essere quello che arriva alle 5 tutti i giorni con il garofano. Perché se sei sana di mente, gli dici, amore mio, cambia, eh? O no? Prima che moriamo tutti e due. Che le emozioni sono cose, sabbie mobili. Ma state scherzando? Ma è il senso della vita. È il sale della vita, le emozioni. Perdere la testa è una cosa meravigliosa. Ma perché? La testa deve stare sempre ferma. È bello perdere la testa. Mamma mia. L'hanno fatto tutti i grandi. Tutti i grandi hanno perso la testa. E se no, non sarebbero diventati grandi, scusate. O no? Perché Michelangelo non aveva perso la testa. Quando ha voluto staccare quel pezzo di marmo, alto 18 metri, tutto intero, e gli hanno detto, tagliamo la Rocchi, dicevano gli operai alle Appuane. E lui disse, ma scherzi? L'hanno fatto i romani? Lo faccio anch'io, no? E si stacca. È certo che si stacca. E muore un operaio. Si ferisce con lui. Pensate che abnegazione. Poteva farla facile? Eh? Tutto quello che è comodo, è stupido, e tutto quello che è scomodo, è molto intelligente. E rimane nella storia. Ecco cosa dobbiamo fare. Bellissimo. E dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi che la passione è il motore della vita. A Parma un ragazzo mi ha chiesto che cos'è la passione. Io dico, guarda, la passione è una cosa difficile da descrivere così. È un vento che ti travolgerà quando meno te l'aspetti, ti farà girare e rigirare tra le lenzuola mille volte. Una notte finalmente non ne potrai più e andrai alle 5 del mattino alla stazione per prendere il primo treno che ti porta da lei. Questo mi guarda, mi fa perché alle 5 del mattino? Perché la passione secondo i social sarebbe così. ti mando un whatsappino, amore, se tu fossi qua tu non hai idea cosa ti succederebbe, però attualmente sono un po' stanchino, ciao. E poi, se tua mamma ti sveglia, se tua mamma ti fa perché ti deve fare il breakfast, se tuo papà ti porta a stazione, perché vuoi andare da stazione, sono dei pericoli che dobbiamo fare, evitare i nostri figli, ti raggiungeremo, ti raggiungeremo, ti raggiungeremo, faremo un bellissimo after hour. Questa è la passione. E questo sposta le montagne, siete sicuri? Questo sposta le montagne, perché noi abbiamo bisogno di passioni che spostano le montagne. Ecco che cos'è il coraggio, il coraggio di immaginare, di immaginare una vita piena, che include anche il dolore. Allora, io credo che, ecco, l'avventuriero è quello che paga per le proprie scelte, ma almeno fa scelte di felicità. La felicità è ciò che ti rende ebro di emozione. Invece, altra sciocchezza, io sto raccogliendo le sciocchezze che dicevano i vecchi, che però sono ancora molto votate, no? Non prendere niente, nessuna decisione sulla base delle tue emozioni. Mamma mia, pensa a cosa dicevano. L'unica cosa interessante è essere in qualche modo, no? Portati dalle emozioni. E se no cosa servono le emozioni, scusate? Cos'è l'emozione? Quando la tua squadra vince uno a zero, cos'è l'emozione? L'emozione è quella tua, quella che ti costruisci tu. Quella che a volte a volte è una lotta che dure tanto tempo. Non è un pret-à-porter l'emozione, non è un lampo. Mi spiego? È una cosa che tu costruisci, perché la costruisci innanzitutto dentro di te. Dentro di te. Modigliani diceva questa cosa bellissima, il nostro dovere reale, pensate già all'idea del dovere reale, che è bellissimo, è preservare il nostro sogno. Cosa c'è di più bello di una frase del genere? Dovere reale, che è un dovere che è perfino superiore a quello morale, perché è un dovere laico. ciò che tu fai per la tua vita a ciò che tu non arrivi vecchio a dire porca miseria, l'ho buttata via. Ho scelto una normalità dell'esistenza. Mi sarebbe piaciuto far quel lavoro, ma non l'ho potuto fare. Mi sarebbe piaciuto far quel viaggio, ma non l'ho potuto fare. Mi sarebbe piaciuto avere un'altra donna, ma non l'ho potuto fare. Cosa hai potuto fare? Niente. Ma è comodo questo. È molto comodo. Ti siedi lì, bestemmi sul mondo, e poi ti rilacqua. È una cosa terribile. Una cosa terribile. Io penso che invece, pensa un ragazzo, questo la scriveva quando aveva 21 anni, Modigliani, ma è fantastico. Dentro, preservare, vuol dire che il sogno ce l'hai dentro. Il sogno non è una di queste stelle nel cielo. che tu devi rincorrere. No, parte da dentro. Lo devi avere dentro. Lo devi scovare. Lo devi illustrare come un più bel piatto di argenteria che tu hai in casa. Lo devi preservare dagli attacchi, dalla mediocrità, dall'invidia. Pensa quanta fatica bisogna fare nella vita. Pensa quante stupidaggine che facciamo. È mostruoso. siamo rimbecilliti dalla comodità. Tutto è comodo. E non ci accorgiamo che la comodità ci ammala il cervello. Non fai più, non fai più uno più uno perché tanto basta tirare fuori il telefonino e sai quando è nato Mike Buongiorno. Non fai più niente, non fai più niente. Non sai neanche più riconoscere le strade perché c'hai Google Map. ma non ci rendiamo conto che ci stiamo rimbecillendo. Io non sono contro le tecnologie però io credo che anche la passione del tentare, del tentare con la propria testa perché se tu non c'hai la testa ma perché c'hai la testa per l'amore? Uno fa l'amore come vive o no? Se no cosa fa l'attore? Uno fa l'amore come vive paro paro o meglio mettiamolo in un altro modo ognuno ha l'amore che si merita.